Adesso li vediamo nel giro di campo, ovviamente non sono della partita Gargano, Strinic, Koulibaly e Insigne. Sappiamo che il mister l'ha quasi premiato convocandolo per la trasferta di Verona, ma che in questo caso ha anche preferito lasciarlo a casa per la nascita del suo secondo genito. Maggio dicevamo che ha dato anche una notizia, un lancio a effetto lasciando la platea di stucco. Cristian Maggio ha affermato che il discorso tra lui e la nazionale per lui è considerato concluso. È una riflessione che lui non ha maturato singolarmente, non ne ha ancora parlato con il tecnico della nazionale Antonio Conte. Ha affermato come nel caso in cui ci sarà l'occasione, lui gliene parlerà, però è praticamente sicuro. La motivazione qual è? La motivazione è che si sente soddisfatto dopo questi sette anni di nazionale. Ha anche affermato come fra gli impegni con il club e quelli con la nazionale azzurra, abbia un po' trascurato la famiglia e quindi ha deciso di porre fine alla sua esperienza nazionale. Intanto adesso vediamo gli azzurri agli ordini di Benitez fare il classico esercizio di controllo e stop. Si sono divisi in tre file, ovviamente è difficilissimo avere indicazioni sulla formazione grazie all'ermetismo che possiamo definire così di Rafa Benitez. Abbiamo davanti alle nostre telecamere Juan Camilo Zuniga. Juan Camilo Zuniga ha affermato al termine dell'ultima partita affrontata in Europa League contro la Dinamo Mosca che lui si sente pronto, lui è al 100%. Ha affermato come questi mesi siano stati per lui un calvario e che adesso non vede l'ora di riprendere il campo. Vediamo che magari non corre come noi ci aspettiamo di vederlo. Fa comunque del lavoro di scarico, non possiamo giudicare la sua fluidità di movimento, però ci sembra un giocatore ristabilito. Postando la nostra attenzione sulla terza fila, il pregio di avere un regista accanto a te è quello di poter decidere. Ecco, invece qui stiamo inquadrando Fabio Pecchia che è ovviamente il secondo di Rafa Benitez. Qualcuno in questi mesi ha anche provato a accostarlo alla prima panchina del Napoli. Alla nostra sinistra l'allenamento dei portieri. Il ballottaggio Raffaella Ndukar sembra essere ormai stato risolto principalmente da quest'ultimo. Eccolo impegnato in una serie di esercizi. Spostiamo adesso dall'altro lato alla terza fila. Grazie Giovanni. Abbiamo Hiller, Gabbiadini, Guain, De Guzman e David Lopez che si allenano sotto gli occhi di Rafa Benitez. Grazie. 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 Grazie.